Invito l'altro ospite della serata, sono veramente contento di avere qui con noi Max Paganin alla tromba. Molte delle canzoni che sentite stasera hanno un filo conduttore importante che è quello della salute e sicurezza sul lavoro e della precarietà sul lavoro. Io ho scritto un disco nel 2010 che si chiama Blues for the Working Class, quindi di questo parliamo sostanzialmente e la canzone di prima arrivava proprio da quel disco. Questa anche è una canzone a cui sono particolarmente legato perché parla di una forma di lotta molto importante che c'è stata qui a Milano qualche anno fa, proprio attorno al periodo in cui stavo scrivendo Blues for the Working Class e riguarda i 49 operai della INSE di Lambrate che hanno combattuto per difendere il loro posto di lavoro lavorando gratis per 13 mesi, quindi sfoderando una dignità e un'etica del lavoro che io giornalmente mi sogno di avere e quindi questo già mi fa avere rispetto per lo smisurato. Poi ho avuto anche la fortuna di conoscerli dopo aver scritto questa canzone che si chiama 49 People, che è arrivata loro tramite, diciamo così, conoscenze comuni. Una cosa incredibile che è successa, mi hanno invitato in fabbrica, come un'altra persona molto più famosa di me che ha scritto di Working Class eccetera eccetera, non ho mai lavorato un giorno in fabbrica, io non l'ho mai sentito allo stesso modo, non l'ho mai sentito il suono della sirena della fabbrica, la prima volta che l'ho sentito è stata una cosa che mi ha fatto venire veramente i brividi da un certo punto di vista. Quella forma di lotta è andata a buon fine, quindi loro hanno conservato il loro posto di lavoro. Poi ancora adesso purtroppo sono in una situazione di poca chiarezza. Io con la band cerco sempre di suonarlo questo pezzo per quanto mi è possibile perché, ripeto, è una forma di lotta importante la loro che hanno portato avanti ed è stato fantastico conoscerli. Quindi questa canzone si chiama 49 People ed è dedicata ai 49 operai della Isse di Lambrato. Grazie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 49 people like me and you Thank you Thank you Thank you